Nei quartieri La sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza, dove sono andati i tempi di una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere e anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino, li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a strastracannare e a stramaledire le donne e il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porterà sul viso l'ombra di un sorriso fra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la invocherai, tu la cercherai più di una notte, ti alzerai di sfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, ti lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi voli, in quell'aria spessa carica di sale, gonfia di odori. Là ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire, sua madre è un nano. Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se sono figli, sono pur sempre figli vittime di questo mondo.